Musica Amministrative affluenza del primo giorno bassa, urne aperte fino alle ore 15 di oggi, anche a Teggiano attesa per l'esito dello scrutinio. San Pietro Altanagro lavori nel centro storico, da oggi chiusura al traffico. Auletta approvata nei giorni scorsi, la riduzione dell'Atari per famiglie e imprese. Ripartenza, luci d'artista a Salerno, la soddisfazione di Confesercenti. Musica, Luciano Manzo dedica una canzone alla sua Montesano. Buongiorno e bentrovati al nostro telegiornale. In apertura le amministrative, il primo giorno di voto nel Vallo di Diano non è andato proprio benissimo. Nonostante la domenica, l'affluenza alle urne è stata piuttosto bassa, con l'unica eccezione di Monte San Giacomo. A Teggiano, unica lista in campo, non basta il raggiungimento del quorum. Vediamo i dettagli nel servizio. Urne aperte fino alle 15 per eleggere nuovi componenti dei consigli comunali nei comuni al voto. Il dato dell'affluenza, però, almeno nel primo giorno di domenica 3 ottobre nel Vallo di Diano, non è molto incoraggiante, con una percentuale che solo in pochissimi comuni riesce a raggiungere il 40% di elettori, seppur va considerato che nella scorsa tornata si votava in un solo giorno. Nel Vallo di Diano, l'unico comune in cui la popolazione, già nel primo giorno, si è avvicinata al dato raggiunto nella precedente tornata elettorale del 2016, è Monte San Giacomo, dove si sono recati alle urne il 41,43% degli aventi diritto, avvicinandosi al 47,35% raggiunto nella precedente tornata elettorale. Ben diverso, invece, il dato di Padula, dove manca ancora il 15% degli elettori per raggiungere il dato delle scorse amministrative. Alla chiusura dei seggi, ieri sera a Padula, avevano votato meno del 31% degli elettori, lontani quindi dagli oltre 45% del 2016. Stessa differenza al momento che si registra a Montesano sulla Marcellana, dove alle 23 di ieri, domenica 3 ottobre, si erano recati alle urne solo il 43,83% degli aventi diritto, lontani dagli oltre 59% della passata tornata elettorale. Situazione ben più complicata a Teggiano, dove una sola lista in campo ha portato ad una riduzione sostanziale della percentuale di affluenza al voto. Il dato relativo alla presenza nei seggi dei elettori alle ore 23 di ieri, racconta di quasi il 22% di elettori in meno rispetto al 2016. Peserà sicuramente la presenza di una sola lista in campo, con la necessità per l'unica compagine di dover raggiungere il quorum affinché possa essere validata l'elezione. In soccorso della compagine di Teggiano europea arriva una recente legge varata dal governo Draghi, che vista l'emergenza epidemiologica ancora in atto, ha previsto l'abbassamento del quorum al 40% degli iscritti alle liste elettorali, anziché il 50%, dato che si abbassa ulteriormente, essendo stato stabilito nello stesso decreto recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021, con l'introduzione del comma 1 terra all'articolo 2 dello stesso decreto, che per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, non si tiene conto degli elettori iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, sia Aire, che non esercitano il diritto di voto. Resta però confermata, perché sia valida l'elezione, che l'unica lista in campo abbia ottenuto il 50% dei voti. Non sarà sufficiente quindi per Michele Di Candi attendere il raggiungimento del quorum per poter essere ufficialmente il sindaco di Teggiano per i prossimi 5 anni, ma dovrà attendere comunque la fine dello scrutinio delle schede, che inizia subito dopo la chiusura dei seggi previsto per le ore 15. Il Ministero della Salute ha dato il via libera alle operazioni di doppia immunizzazione. Nella stessa seduta si potrà ricevere il vaccino anti-covid e il vaccino anti-influenzale. Il Ministero della Salute ha dato il via libera alla cosomministrazione nella stessa seduta del vaccino anti-covid e del vaccino anti-influenzale. Questo per le categorie di soggetti per le quali la vaccinazione anti-influenzale stagionale è raccomandata, come ad esempio gli anziani over 80, che devono anche ricevere la terza dose di vaccino anti-covid, oppure gli over 60 che devono ancora ricevere la prima o la seconda dose di vaccino anti-coronavirus. I medici di famiglie e le farmacie si dicono pronti a partire con le operazioni di doppia immunizzazione, ma le consegne degli anti-influenzali in varie regioni non sono ancora cominciate e in altre vanno a rilento. L'unica regione che ha iniziato la distribuzione dei vaccini ai medici di famiglia è la Campania, spiegano dalla Federazione dei Medici di Medicina Generale. Le dosi di vaccino anti-influenzale ordinate dalle regioni quest'anno sono state 19 milioni, superando il record di 17 milioni dello scorso anno. Fare il vaccino anti-influenzale, sottolineano, è importante per ridurre il rischio di una doppia epidemia covid e influenza e iniziare prima la somministrazione fa la differenza perché aumenta il tempo a disposizione per scaglionare gli appuntamenti. Lo scorso autunno, quando gran parte dei territori italiani era in zona rossa, mascherine e distanziamento, spiegano, i medici hanno evitato una grande diffusione influenzale. Ora che la situazione è cambiata, il fatto di avere tanti soggetti non entrati in contatto col virus influenzale, quindi senza anticorpi, può innescare un'epidemia più estesa. I casi di influenza stimati tra la fine del 2021 e i primi mesi del 2022 sono tra i 4 e i 6 milioni. A San Pietro Altanagro per lavori di pavimentazione nel centro storico da oggi sono previste chiusure al traffico di alcune strade cittadine. Provvedimenti legati alla circolazione stradale sono previsti da oggi a San Pietro Altanagro per i lavori di rifacimento della pavimentazione nel centro storico cittadino. Il sindaco Domenico Quaranta è infatti firmato un'ordinanza di chiusura al transito delle strade comunali e in particolare di via Largo Chiesa nell'ambito dei lavori di manutenzione straordinaria alla viabilità in pietra a San Pietro Altanagro. Per consentire il rifacimento della pavimentazione presente nel centro storico, l'amministrazione comunale ha ritenuto utile dover adottare ogni provvedimento volto ad assicurare il regolare svolgimento dei lavori. Dunque, da oggi, con apposita ordinanza, è stato disposto il divieto di transito e sosta dei veicoli su via Largo Chiesa con il divieto di utilizzo per l'entrata e l'uscita dei veicoli dei box auto presenti sul tratto di strada interessato dei lavori fino al 18 ottobre prossimo. Dal divieto di transito sono esonerati esclusivamente i veicoli a servizio del cantiere stradale della ditta esecutrice dei lavori e mezzi di soccorso. La ditta, si legge inoltre nell'ordinanza, dovrà apporre idonea segnaletica stradale in conformità alle direttive impartite dal comando di polizia locale di San Pietro Altanagro e dovrà adottare ogni accorgimento volto a garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione stradale e delle persone prima e dopo lo svolgimento dei lavori. La giunta comunale di Auletta nei giorni scorsi ha dato il via libera alle agevolazioni in materia di Tari. Vediamo i dettagli. Approvata da Auletta la riduzione della tassa sui rifiuti, la giunta comunale ha dato il via libera alle agevolazioni in materia di Tari grazie a fondi statali per oltre 76.000 euro di cui beneficeranno famiglie e imprese. Sono state disposte esclusivamente per l'anno 2021 riduzioni tariffarie di 21.650 euro per le utenze domestiche, 8.319 per le utenze non domestiche, 46.334 per le utenze domestiche alle famiglie più bisognose sulla base dell'ISEE e su richiesta. In quest'ultimo caso, fino all'esaurimento dell'importo disponibile, sarà riconosciuta una riduzione della quota variabile del 90% a chi ha un ISEE da 0 a 10.000 euro, dell'80 da 10.001 a 20.000, del 70 da 20.001 a 30.000, del 60 da 30.001 a 35.000 e nessuna riduzione per gli ISEE oltre i 35.001. Per quel che riguarda le utenze non domestiche, invece, sono state divise in quattro fasce. Per la 1, in cui rientrano ad esempio palestre, centri estetici e ludoteche, è prevista una riduzione dell'80% della parte variabile. Per la 2, bar e ristoranti, parrucchieri e biblioteche e studi fotografici, del 60%. Per la terza, in cui rientrano varie tipologie di negozi, del 50% e per la quarta, quindi autotrasporti, distributori di carburante, artigiani e studi professionali, del 30%. La crisi dei pescherecci in Italia favorisce le importazioni di prodotti ittici. In questo modo cresce il rischio frodi. Nel primo semestre del 2021 ESOS truffe a tavola per i prodotti ittici e quanto emerge da un'analisi dell'Unione Europea delle Cooperative sui dati ISTAT, in occasione del lancio del Piano Nazionale delle Cooperative per il consumo di pesce made in Italy a chilometro zero. Gli italiani, evidenzia o ecop, mangiano circa 28 kg di pesce l'anno, superiore alla media europea, ma si tratta di un quantitativo più basso rispetto agli altri paesi che hanno un'estensione della costa simile, come il Portogallo, dove se ne consumano quasi 60 kg. Ma in Italia, la crisi dei pescherecci diminuisce la possibilità di portare in tavola pesce made in Italy, favorendo gli arrivi dall'estero di prodotti ittici che non hanno le stesse garanzie di sicurezza di quelli tricolore. Per combattere le frodi, evidenzia o ecop, è fondamentale prevedere l'obbligo di indicazione in etichetta del giorno in cui il pesce è stato pescato, in modo da garantire la massima formazione e trasparenza sulla freschezza del prodotto e l'indicazione di origine va inserita oltre che sui banchi del mercato o dei supermercati, anche per i piatti proposti nei menù dei ristoranti, un po' come avviene per la segnalazione sull'uso di prodotti freschi oppure surgelati. Ci fermiamo per un po' di pubblicità. Eccoci tornati in studio dopo il periodo buio della pandemia pian piano si ritorna alla normalità il ritorno di lucida artista a Salerno fa ben sperare Confesercenti esprime grande soddisfazione per il ritorno della Kermess nel capoluogo. Confesercenti Salerno plaude al ritorno della Kermess luminosa lucida artista. Fanno ben sperare le dichiarazioni di questi giorni circa la possibilità di rivedere in essere la manifestazione unica nel suo genere. Un evento che spesso ha diviso la pubblica opinione salernitana ma che indubbiamente ha rappresentato e può rappresentare dopo la crisi uno spiraglio di ripartenza per l'economia di decine di categorie di commercianti salernitani. Crediamo che immediatamente dopo il voto elettorale delle amministrative cittadine fanno sapere da Confesercenti Salerno ci si dovrà sedere ad un tavolo per garantire alla città il corretto svolgimento della manifestazione nel rispetto dei protocolli sanitari e delocalizzando alcune delle piacevoli iniziative così come chiediamo da tempo ma anche in altre aree cittadine. Siamo da sempre favorevoli all'iniziativa che dà lustro alla città e il respiro alle attività commerciali e turistiche di Salerno città ma anche per le comunità limitrofe questo significherà rivedere ospiti in periodi dell'anno altrimenti deserti. Confesercenti farà la sua parte per la buona riuscita della manifestazione e come sempre la nostra associazione anche tramite i nostri rappresentanti verticali, cittadini e di categoria darà il giusto contributo in termini di idee proposte. Il cantante Luciano Manzo dedica un brano al suo paese d'origine Montesano sulla Marcellana Torna sulle scene musicali con un brano dedicato al suo paese d'origine il cantante Luciano Manzo che presenta al pubblico il suo nuovo inedito dal titolo Sta storia mia un brano che l'artista originario di Montesano sulla Marcellana ha deciso di dedicare al suo paese perché ognuno di noi ha le proprie radici ha affermato nel paese dove è nato e cresciuto vivendo con le proprie origini le sue storie nel bene e nel male Montesano sulla Marcellana ha concluso non lo dimenticherò mai si tratta del quinto brano per il cantante che ha debuttato nel 2019 con due canzoni inedite due storie d'amore scritte per lui da Pino De Carlo accompagnate da due videoclip girati a Napoli appassionato di musica fin da piccolo i suoi brani sono caratterizzati da tonalità neomelodiche tra i suoi cantanti preferiti ci sono infatti Rosario Miraggio Gigi D'Alessio Nino D'Angelo Alessio ma anche musicisti rock come Vasco Rossi e Luciano Ligabue con questo quinto brano Luciano Manzo continua dunque la sua avventura nel panorama musicale portando avanti una carriera da cantante intrapresa spinto dalla passione e dalla voglia di mettersi in gioco per ascoltare Luciano Manzo è possibile visitare le sue pagine social e il suo canale YouTube Siamo giunti al termine del nostro telegiornale grazie per essere stati con noi buon pomeriggio Grazie a tutti